Tutti sanno che esistono i classici Disney. Scommetto che non li avete visti tutti. Ditemi quali non avete visto, perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono, spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. La prima epoca Disney è definita l'epoca d'oro, questo perché era quella iniziale in cui si era pieni di idee e progetti e non c'è mai stato un flop in quest'epoca. Biancaneve e i sette nani In questo regno della Germania medievale, una strega ha preso il potere. La sua figlioccia, Biancaneve, viene trattata come una schiava dalla regina che è estremamente gelosa della sua bellezza. Ma quando scopre che l'opinione comune è che la bellezza della sua figlioccia sia addirittura superiore a quella della regina, beh, qua si impazzisce di gelosia e ordina un cacciatore di ucciderla. È a questo punto che inizierà la storia di Biancaneve che pur di nascondersi dalla matrigna, dovrà imparare a vivere con sette nani in mezzo alla foresta. Pinocchio Italia 1800 Un giovane falegname chiamato Geppetto esprime il grande desiderio di poter avere un figlio. Così, la fata turchina decide di esaudire questo desiderio dando vita a una marionetta. Questa marionetta prende il nome di Pinocchio e viene da subito apprezzata da Geppetto come un figlio vero e proprio. Il piccolo Pinocchio però non è ancora abbastanza esperto e non riesce ancora a distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato. E così il grillo parlante, il narratore della storia, dovrà seguirlo nelle sue avventure per cercare di indirizzarlo verso il far la cosa giusta. Nel corso del film però continuerà a fare la cosa sbagliata. E questo porterà il povero Geppetto a rischiare seriamente la vita. Fantasia Dietro a qualsiasi cosa si può nascondere della musica. Così seguiamo le vicende del Cernabog, un gigantesco servo di Satana che si diverte a giocare con le anime dei mortali. Incontriamo anche gli dei greci che sull'Olimpo si divertono e festeggiano la primavera. Seguiamo poi l'estinzione dei dinosauri. Topolino che, apprendista di un grande stregone, cerca di imparare la magia e le fate che risvegliano la natura con i loro piccoli poteri. Dumbo Ci troviamo in un circo di inizio novecento, qui gli animali vengono trattati davvero come bestie. E quando nasce Dumbo, con delle larghissime orecchie, questo viene direttamente trasformato in una sorta di pagliaccio di cui gli spettatori dovranno ridere. E mentre Dumbo cerca di superare tutti i suoi traumi dovuti al modo in cui viene trattato in modo diverso, la madre di Dumbo viene considerata pericolosa semplicemente perché ha cercato di difendere il figlio. Ma Dumbo ha una qualità nascosta che nessuno sospettava. Bambi Nella foresta è nato il principino, cioè un cucciolo di cerbiatto, figlio del cervo che è considerato il principe della foresta. Ma quello che vedrete voi è tutto il percorso di crescita, dalla nascita all'età adulta, di un cervo comune. Quest'epoca è quella della guerra mondiale. È caratterizzata da film che non sono mai diventati particolarmente famosi e che vennero fatti soprattutto a causa della guerra. Sono infatti o film classici Disney d'animazione che sono stati drasticamente tagliati per adattarli a dei film più corti, o addirittura film politici pretesi dal presidente degli Stati Uniti. Saludos amigos Il presidente degli Stati Uniti chiede a Walt Disney di fare un cartone animato per far capire alla gente che il Brasile, l'Argentina, il Cile e tutti quei paesi che stanno nel Sud America non sono semplicemente degradati, ma hanno una vera e propria cultura. Così questo film è un documentario che vi parlerà del Sud America. Ma in modo estremamente divertente e musicale. I tre caballeros È ancora Saludos amigos, ma è un altro film. Sì, la trama è ancora quella. Musica maestro Sulla falsa traccia di fantasia Di nuovo cerchiamo di trovare la musica all'interno del conoscene. Semplicemente piccole canzoncine accompagnate da qualche piccola lezione di vita sul come comportarsi nel baseball o sull'odio fra due famiglie. Bongo e i tre avventurieri Questo film è diviso in due parti. Prima parte, Bongo. Bongo nasce nello stesso cerco di Dumbo È un orso E lui, da orso, vorrebbe tantissimo vivere nella foresta E tutte le volte che vede le montagne non desidera altro che andarci a vivere Ma lui non è stato abituato a vivere nella foresta Così quando riuscirà finalmente a scappare dal cerco Ecco che si ritroverà in un ambiente a lui completamente ostile. Seconda parte, la leggenda di Valle Felice Valle Felice è una bellissima valle dove tutti sono felici Felici grazie al suono di una melodiosa arpa L'arpa magica porta talmente tanta felicità Che attira l'attenzione di un gigante Che vive in un regno nei cieli Che decide di scendere sulla terra Per prendere l'arpa E portarla con sé nel suo castello Da quando l'arpa non c'è più Il paese cade in depressione E nella miseria Ed è Jack Un povero topolino che Sta morendo di fame Che scambierà la sua mucca per dei fagioli Ed è grazie a questi fagioli che farà crescere l'incredibile pianta Che lo porterà a raggiungere il gigante nell'alto dei cieli Con una missione molto particolare Recuperare l'arpa magica Lo scrigno delle sette perle Ci troviamo ancora in una situazione come quella di musica maestro Tanti spezzoni con canzoncine E qualche immagine carina Ma stavolta ci dedichiamo Soprattutto alle grandi leggende americane Così se da un lato abbiamo una bellissima storia d'amore invernale E un piccolo accenno a saludos amigos Dall'altro abbiamo la storia di John Semi di Mela Il giovane patriota che vorrebbe tanto andare a fare la guerra E partire per l'Ovest Andare contro gli indiani E fare iniziare quello che tutti conosciamo come il vecchio West Ma lui è fragile e deboluccio E quindi non può fare altro che piantare mele Non può sapere che questo in realtà cambierà per sempre la storia degli Stati Uniti Un'altra storia interessante è quella di Pecos Bill Il grande pistolero Che era così potente Da riuscire a scavare il rio grande solo con il suo cavallo Che aveva cavalcato un tornado E di cui si raccontavano un sacco di storie Fino al giorno in cui arrivò la sua rovina Si innamorò Le avventure di Icabod e Mr. Todd Un altro classico Disney Che è l'ultimo classico Disney di cui vi parlo per questo video La prima parte racconta la storia del vento fra i salici Il signor Rospo Che vive in villa Rospo È estremamente ricco E può desiderare qualsiasi cosa Ma un giorno viene chiamato in tribunale A quanto pare ha rubato un'automobile E questo film sarà un processo in cui si cercherà di capire se Il signor Rospo ha davvero rubato l'automobile o forse no Ma le varie testimonianze possono essere molto molto divergenti fra loro Ma soprattutto abbiamo la versione del signor Todd Seconda parte La leggenda di Sleepy Hollow Nella valle di Sleepy Hollow arriva un nuovo insegnante Il signor Icabod Icabod Crane È davvero un bravo insegnante Ma soprattutto è un uomo estremamente goloso di donne Quando arriva in città viene da subito preso in giro per il suo aspetto strano Ma effettivamente la giovane Catarina La donna più bella del villaggio Sembra quasi poter essere interessata a lui Brom Bones, una sorta di Gaston del passato Non può accettare questa cosa Così ci sarà questa enorme sfida d'amore Fra Brom Bones e Icabod Crane Ma la storia prende un risvolto abbastanza interessante Quando scopriamo qual è la grande leggenda di Sleepy Hollow Quella del Cavaliere Senza Testa Che da quando perse la sua Taglia la testa a tutti quelli che incontra Credendo che abbiano rubato la sua Credo che sia il classico Disney più horror in assoluto Ditemi che cosa ne pensate Quale di questi classici Disney non avete mai visto E se ho indovinato Non avete mai visto la seconda parte di questi classici Sì non sono fra più apprezzati quelli vecchi al giorno d'oggi Ma i tempi furono Wow Wow